Siamo all'apice di questa ondata di caldo africano sull'Italia. Infatti da domani inizierà il calo delle temperature che si avvertirà maggiormente su settori orientali e al sud di Italia. In particolar modo nella giornata di domenica causato dalla discesa di correnti di aree più fresche settentrionali che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'anticiclone, mentre sulla penisola iberica inizierà la fase più cruenta di questa ondata che da giorni sta facendo impennare la colonnina di mercurio. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Venerdì genera condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sulle aree montuose, con possibili piogge su polline e altipiano silano. Temperature stazionarie. Sabato cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme, con possibili rovesci su polline e sila, in estensione sulle zone limitrofe. Temperature in calo di alcuni gradi. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Venerdì mari generalmente calmi o poco mossi, con venti a regime di brezza. Sabato mari inizialmente poco mossi, con motondosi in aumento, con venti che nel corso della giornata si disporranno dei quadranti settentrionali. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per l'appuntato di anno è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.